La consulta studentesca dice sì allo slittamento del ritorno in classe, condividendo quanto stabilito dal governo Musumeci, ma chiede che si faccia anche uno screening che venga data la giusta attenzione a due punti fondamentali, quali trasporti ed edilizia scolastica. Noi come consulta studentesca, come coordinante regionale, ci poniamo dalla parte degli studenti, prendiamo la posizione degli studenti e troviamo sia necessario il fatto che in qualsiasi situazione venga garantito innanzitutto il diritto allo studio e insieme al diritto alla salute e alla sicurezza degli studenti. Proponiamo prima del rientro a scuola uno screening in modo tale da effettuare questo rientro con un quadro generale e successivamente lo proponiamo in maniera periodica in modo tale da continuare a monitorare la situazione e avere i dati sempre aggiornati. Inoltre riteniamo sia molto importante, a maggior ragione in questa situazione, sottolineare i problemi che vi sono in questi due macro temi che sono l'edilizia e i trasporti perché sicuramente vanno ad aggravare tutta questa situazione di contagio che già c'è. Intanto alla proposta dei sindaci del Lanci di adottare la didattica a distanza per evitare i contatti tra fasce di popolazione a rischio, tra cui gli alunni delle primarie fino a 12 anni, visto che non sono coperti da vaccini e vista la percentuale dei positivi che riguarda proprio gli studenti e considerato l'ulteriore problema dei tracciamenti dei contagi, a quella proposta è arrivata la replica da parte dell'assessore regionale Lagalla che dice a chiare lettere che salvo eventuali ed ulteriori determinazioni nazionali la sospensione totale o parziale delle attività didattiche sarà disposta solo in presenza di zona arancione o zona rossa.